Eccomi, sono Gabri Costa, sono tornato ragazzi. Datemi a sentire, molto attentamente, aprite le orecchie. Questa è la quarta e ultima battaglia del quarto capitolo di Mortal Kombat 9, della modalità storia. Si sta facendo un litigio tra Cyrax e Sektor, ma guardateli come sono umani. Non sono macchine, sono umani. Avete visto, Cyrax sgancia le bombe, mentre Sektor si teletrasporta e spara missili. E se è vinto il primo round? Ora si deve vincere il secondo round. Ora bisogna vedere chi è il più forte tra Cyrax e Sektor. Secondo me vince Cyrax. Se riusciamo a vincere questa battaglia, presto passeremo al quinto capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 9. Presto giocheremo nei panni di Liu Kang, ma per ora non c'è fretta. E questa battaglia si conclude con la X-Ray. Cyrax ha vinto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 unwillingire. Grazie a tutti. Grazie.